Buongiorno, giornata finale per Angra dell'Umbra con il coach Pentucci, allenatore delle Marche. Allora facciamo un quarto quarto un po' difficile ma avete comunque ricordato la medaglia d'argento. Ci racconti un po' la partita. Sì, siamo stati molto bravi per tre quarti e poi purtroppo abbiamo veramente mollato in difesa e tanto è vero che abbiamo subito 26 punti l'ultimo quarto e non ci siamo più riusciti a prendere una volta che loro hanno ricucito il vantaggio che avevamo di più 8, più 9, quasi sempre per tre quarti non siamo più riusciti a giocare con ordine. Sicuramente un po' la stanchezza è il fatto che già partivamo in 10 perché avevamo due infortunati e poi c'è un ragazzo che si è fatto male il primo quarto e purtroppo questo è un po' pesato perché ci sono venuti a mancare un po' di rotazioni e questo l'abbiamo pagato molto l'ultimo quarto. Il prossimo appuntamento è il trofeo delle regioni. Cosa cambia nella squadra dopo questi tre giorni? Adesso dobbiamo un po' valutare i convocati anche vedendo un po' i bollettini medici e chi sarà abile per il trofeo delle regioni e dovremo sistemare alcune cose. Questa torneo ci serviva molto in preparazione per crescere e anche per cercare di capire cosa sistemare le ultime cose anche perché non abbiamo tanto tempo e quindi vedere le cose più importanti da sistemare. Va bene, grazie mille Pace e buon lavoro. Grazie mille, complimenti per il torneo, ci siamo divertiti molto.